GF Vip. Amedeo Goria confessa. Vera Miales incinta? Ho qualche dubbio. GF Vip. Amedeo Goria e Vera Miales diventeranno genitori? Lui. Ho qualche dubbio perché stavamo attenti. GF Vip. Finalmente dopo aver superato il televoto, Amedeo Goria nella nuova puntata del GF Vip 6 e aver incontrato l'ex moglie Maria Teresa Ruta ha ricevuto una notizia del tutto inaspettata. Il giornalista è venuto a conoscenza del fatto che la sua compagna Vera Miales potrebbe essere in dolce attesa a detta di alcune indiscrezioni. La reazione di Amedeo non si è fatta attendere. Visto che ha detto? Ho qualche dubbio perché stavamo attenti. Amedeo Goria sulla presunta gravidanza di Vera Miales al GF Vip sottolinea. Io non so nulla. Nei giorni scorsi sul web sono circolate delle fotografie sospette di Vera Miales. La compagna di Amedeo Goria uno dei concorrenti del GF Vip 6. Nelli scatti in questione la modella influencer ha delle rotondità all'altezza del ventre. Un dettaglio che ha fatto ipotizzare che potrebbe essere incinta. Il giornalista dopo essere stato rimproverato da Maria Teresa Ruta ha avuto modo di vedere un video in cui la conduttrice Barbara D'Urso ha invitato il reality show di Canale 5 a metterlo al corrente dello scoop circolato sulla sua compagna. Amedeo non ha perso tempo per dire la sua sulla questione. Io non so nulla. E, da tanto che non ci incontriamo io e Vera. GF Vip. Amedeo Goria interrogato da Alfonso Signorini. Potrebbe essere in dolce attesa Vera Miales? A questo punto Alfonso Signorini ha cercato di vederci chiaro. Facendo questa domanda ad Amedeo Goria. Da quanto non vi vedete tu e Vera Miales? Che ha risposto? Saranno un 35-40 giorni? L'opinionista Adriana Volpe ha fatto notare che in effetti la modella è Influencer nelle scorse settimane ha detto al suo compagno di aspettarlo con grandi novità. Il conduttore invece ha interrogato di nuovo Amedeo. Potrebbe essere in dolce attesa per i vostri trascorsi. Che incredulo ha detto. Mi sembra un po' strano.